segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te allora maglietta della flottiglia mass della decima massa il momento adere sempre dietro se ne accorgono dopo perché va in onda poi però lui viene cacciato all'istante è lo stesso però montesano avevamo già visto io addirittura collegato a una piazza voleva sputare senza mascherina pensava che il il covid fosse una congiura insomma che succede come l'italia si appassiona ma guarda rai metafora del paese è sempre stata così no tra l'altro il sedicente servizio pubblico anticipa quasi sempre le grandi tendenze politiche che la nazione come ora si dice attraversa o attraverserà e qui il problema qual è è che appunto un servizio pubblico serio serio che vuole fare anche intrattenimento come è giusto che sia per quale motivo in un programma di prima serata importante che fa ascolti clamorosi perché come la mili carlucci si contende la leadership del sabato sera con maria la sanguinaria come definita il sabato sera con tu sì che vale stravince sempre però ballando con le stelle gli è un incollatore non c'è dubbio c'è un programma come quello anche bello piacevole interessante divertente stimolante invita come ballerino come concorrente uno come enrico montesano che ha fatto quello che ricordavi tu durante i giorni tragici del del covid quando ancora stavamo veramente un fenomeno si aspetta che possa accadere qualcosa ma non c'è dubbio e quindi è fatale che uno così prima o poi produce un fenomeno del genere il quale il quale poi scattano di nuovo rai metafora del paese lui si prende il lusso di farlo perché in questo momento lo può fare il contesto politico glielo consente agevolmente gli autori però no perché stefano coletta il direttore del trattenimento da rai l'ha mandato via in dieci minuti dieci minuti diciamo in qualche parecchie ore perché il tormento è durato l'intera domenica quindi non è stata una decisione così semplice però ripeto gli autori dove erano hanno dato a un certo punto volevano dare la colpa al costumista cioè come se dipendesse da lui è sempre il maggior domo l'autore dei delitti ma ripeto è una metafora del paese il servizio pubblico è dovrebbe essere tutt'altro e se non si danno una regolata io penso che il declino proseguirà inesorabile